Ciao a tutti, allora scusate lo stato sono in condizioni semipietose, abbiate pazienza e il problema alle orecchie è che per fortuna si sta risolvendo, ma non è ancora risolto del tutto di conseguenza sono ancora semistordita, non fateci caso volevo fare questo brevissimo video perché volevo farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto in questi giorni allora, intanto oggi ho fatto le mani, le ho crociate tantissimo perché tra tre settimane dovrò eliminare del tutto il bordo libero e ricostruire fin dall'inizio perché le mie sotto sono cresciute troppo e di conseguenza rischio di farmi male ora sono circa metà, di conseguenza la parte ricostruita è soltanto la punta le farò tra tre settimane perché poi andrò giù in ferie con mio marito e di conseguenza mi allungo un po' con i tempi le ho semplicemente accorciate, accorciate di tanto e ho fatto antique di estrosa proprio una cosa semplicissima, giusto per tirare queste altre tre settimane allora, due novità sono andata al nuovo polo della bellezza di Dalmine scusate anche la maglietta del Giro d'Italia perché sono in casa capelli allegati, lasciate perdere lo sapete in che stato sto io quando faccio i video, non è importanza sono stata appunto al nuovo polo della bellezza di Dalmine ha aperto da circa un mesetto più o meno ha aperto il primo di agosto no, fine luglio sì, fine luglio io pensavo di trovare chissà cosa in realtà è semplicemente un salone da parrucchiere molto grande che ha una vendita di alcuni prodotti con degli sconti abbastanza consistenti, devo dire io ho comprato solo due prodotti ovviamente non dovevo andare dal parrucchiere perché non ne avevo bisogno però ho comprato due prodotti al momento sto cercando di far riprendere un po' i miei capelli che sono un po' secchi le punte, ma nemmeno più di tanto siccome c'era Olaplex in offerta la fase 3 l'ho presa a 19 euro questa qui ha un prezzo online di circa 40 euro 35 euro quindi dal parrucchiere ho sentito che costa anche 60 euro una roba del genere allora, che cosa serve? gli ingredienti non sono male intanto questa è una cosa importante da sapere cosa serve? comporta tre fasi le prime due fasi vanno aggiunte al decolorante il parrucchiere non so perché ha aggiunto qualcosa ma non so se ha usato questo e servono per preservare il capello durante la decolorazione la terza fase può essere utilizzata anche a casa ed è praticamente un potente ristrutturante per lunghezze e punte ora, io che cosa ho fatto? ho fatto esattamente quello che mi ha suggerito di fare la ragazza ossia, ho bagnato, umidificato lunghezze e punte ho applicato una noce di questo qua perché non ne serve tanto il prodotto è molto molto cremoso quindi facilmente si può distribuire molto facilmente e l'ho tenuto in posa 30 minuti con il mollettone ho messo il mollettone e poi ho fatto lo shampoo ho fatto ovviamente uno shampoo acido quindi io uso uno shampoo acido proprio di quelli in vendita nei grossi di parruccheria proprio acido con un incidecente altrimenti acidifico lo shampoo come lo acidifico? prendo uno shampoo che uso quindi un bio, un normale e aggiungo un cucchiaino di aceto di mele in questo modo lo acidifico e poi lo uso faccio l'ultimo risciacquo no, applico poi la maschera e ho comprato questa qua in site sempre lì al polo della bellezza colored hair e questa è olio biologico di macadamia fito complesso protezione colore maschera d'azione protettiva per esaltare, prolungare, nutrire il colore dei capelli questo qua è ottimi ingredienti non è male come ingredienti ed è costato l'olaplex è costato 19 ve l'ho detto questo è costato 7 euro c'erano gli sconti questo è senza minerali mineral oil free organic ex paraben free colorant free silicon free insomma è una buona marca questa qua e devo dire che è favoloso l'odore è buonissimo e io faccio la maschera faccio poi l'ultimo risciacquo con aceto di mele quindi prendo una brocca da circa mezzo litro all'interno inserisco due cucchiai di aceto di mele e acidifico la soluzione in questo modo aiuto le squame del capello a chiudersi e in teoria dovrebbe aiutare sia la lucidità che la bellezza del colore che il capello in generale questa è una cosa che si dovrebbe fare sempre sempre poi sono stata da Lidl la settimana scorsa sì perché non sono uscita in questi giorni proprio sono stata a casa ho fatto un ferragosto a casa di relax totale con mio marito perché mio marito è stato a casa 5 giorni quindi abbiamo fatto 5 giorni di relax settimana scorsa sono stata da Lidl da Lidl hanno messo una nuova linea per bambini che è in edizione limitata quindi non la troverete sempre e ha alcuni prodotti molto interessanti c'è l'olio corpo quindi per i massaggini per idratare il corpo dei bambini insomma il bagno schiuma lo shampoo che ho qui questo è uno shampoo camomile pantenolo mi interessava perché contiene il pantenolo il pantenolo è molto importante per il benessere dei capelli perché li rende morbidi e li nutre questo qua ha ottimi ingredienti che ve lo dico a fare se l'ho comprato evidentemente questo è una nuova linea C& Baby questa però a quanto pare non sarà sempre disponibile è in edizione limitata quindi ho comprato due confezioni di questo shampoo che è delicato che è delicato e al pantenolo e due confezioni di questo qua allora c'era anche la crema all'ossido di zinco ma io ne ho talmente tante che ho detto no ok non la prendo questo qua però mi ha conquistata è un si chiama head to toe ossia baby wash serve per lavare viso corpo e praticamente per le manine il viso si utilizza diciamo nel quotidiano per i lavaggi frequenti ora io l'ho utilizzato per struccarmi con il panno in microfibra scusate oggi mi mancano le parole ma sono rincoglionita completamente questo è praticamente io lo uso con il panno in microfibra per struccarmi cosa ha di bello? di bello ha che praticamente non fa schiuma ne fa pochissima a parte l'odore paradisiaco ha un odore paradisiaco e fa pochissima schiuma proprio pochissima e strucca che è una meraviglia una meraviglia quindi io lo tengo lì nel bagno accanto al lavello al lavabo perché praticamente lo utilizzo per lavarmi la faccia la mattina per lavarmi la faccia è delicatissimo non secca affatto la pelle e ha questo vantaggio che può essere utilizzato per lavaggi frequenti nello specifico il gel detergente corpo e capelli questo serve anche per lavare i capelli in realtà io non lo utilizzo per lavare i capelli ma lo uso per lavare la faccia e mi trovo benissimo allora questo ha un prezzo di 2,49€ lo shampoo è 1,99€ al solito i prezzi di Lidl li conoscete sono ridicoli per prodotti di ottimissima qualità bene in questi giorni penso che farò qualche altro piccolo video ho fatto questo brevissimo video per aggiornarvi e per farvi vedere questi nuovi acquisti nient'altro di particolare io vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao